L'ultima puntata della stagione è tempo di bilanci in casa Reggina, è tempo di programmare il futuro, è tempo soprattutto di parlare di calcio mercato. Noi stasera lo faremo in compagnia del presidente della Reggina Calcio, Lillo Foti. Presidente, le chiedo se bisognerà attendere ancora per annunciare il nuovo allenatore della Reggina. Credo di sì, credo che ci sia, se non prima il Taranto risolve un accordo, un contratto depositato con, dato l'allusione del signor Dionigi, alla scadenza il 25. Dionigi potrebbe essere accompagnato da qualche calciatore di Taranto nella sua avventura reggina. Bremec potrebbe essere il portiere della Reggina? Ma Bremec potrebbe. Di Bari pure, Presidente. Di Bari. Di Bari, siamo là. Perché la Reggina ogni qualvolta riesce a mettere la cilegina sulla torta, che si chiami Acerbi, si chiama Costa, Viola, eccetera, eccetera, perché se ne deve privare? Perché? Lei sa quanto costa la Reggina? 9 milioni. Lo sa quanto incassa la Reggina di introi televisivi e tutto il resto? Non la Reggina, il Crotone, il Cittadelo. 5. In costa 4 milioni e mezzo di euro, quindi c'è un gap di 5 milioni. Tenere in piedi un'azienda non è una cosa semplice. Di Lillo Foti, è primario il risultato sportivo o primario il risultato aziendale? Oggi, per le aziende in genere, quindi il calcio, credo che non sia un'azienda diversa, il primo obiettivo è sicuramente quello di avere un percorso che ti permetta di poter poi approcciarti a quello sportivo, a quello che poi interessa alla gente. Ma se non hai quei presupposti, sicuramente mistifichi una realtà. Però poi alla fine, al tifoso, importa poco di tutto questo perché... E vede, bisogna cambiare questa cultura. No, 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 Presidente, al tifoso interessa poco perché l'obiettivo del tifoso è vedere la squadra sempre più in alto. Recentemente abbiamo cercato un attimo, forzando un po' sicuramente le situazioni, un risultato prettamente sportivo. Abbiamo corso rischi, credo concreti, di mettere in difficoltà un'azienda che invece penso che ci sia bisogno di portargli rispetto per il tipo di lavoro che fa. Il ritiro è possibile fare la prima parte qui a Reggio, servirebbe secondo me anche a creare un po' di entusiasmo. C'è la struttura, perché non farla zantare? Ah, infatti, la penso come lei, la penso... Quando dovrebbero essere dentro il ritiro, più o meno quando... Anche per capire quando potremmo andare in ferie. Il 9. Il 9 luglio? Si riparte il 9 luglio. La seconda parte dovrebbe essere o Gianciano o Norcia.